house of cards torna su netflix in italia house of cards è di nuovo tra noi o meglio raggiunge netflix anche in italia a dieci anni dall'uscita della prima stagione era il primo febbraio 2013 quando la serie tv ideata e prodotta da bowie limon sbarcava in piattaforma l'intera saga è ora disponibile sul catalogo netflix italia da novembre 2023 dopo infatti una prima finestra di distribuzione avvenuta su sky risale allo scorso 2 novembre 2023 il rilascio di tutti gli episodi della serie con kevin spacey i soliti sospetti american beauty e robin wright prove d'accusa millennium già nella top 10 dei titoli più visti su netflix italia si tratta di un ritorno dal sapore simbolico quello di una delle serie televisive più iconiche e rivoluzionarie di sempre un titolo importante quanto controverso da ottenere nel corso di sei stagioni ben nove nomination ai primetime emmy award e otto nomination ai golden globe tra questi uno vinto nel 2014 da robin wright come miglior attrice in una serie televisiva drammatica e un altro aggiudicato da kevin spacey come miglior attore in una serie televisiva drammatica ma allora perché la serie tv è stata chiusa in fretta e furia era infatti il 2 novembre 2018 quando su house of cards calava inesorabile il sipario una decisione da molti criticata ma allora ritenuta indispensabile da netflix cos'è successo house of cards controversie il motivo dell'improvvisa chiusura di house of cards è da collegare alle accuse di molestie sessuali mosse contro il protagonista della serie ovvero kevin spacey una volta resa pubblica la notizia netflix ha subito licenziato l'attore annunciando che la sesta stagione del progetto sarebbe stata l'ultima soltanto nel 2023 a seguito della soluzione di tutte le accuse di violenza sessuale kevin spacey è giudicato non colpevole adesso l'attore americano due volte premio oscar può finalmente tornare al suo lavoro magari non alla casa bianca ma certamente su netflix di cosa parla house of cards al centro delle sei stagioni di house of cards troviamo le intricate vicende politiche di un uomo spietato e suddolo come frank underwood spacey pronto a tutto per raggiungere il potere di washington e con